Benvenuti a tutti, sono Arcalina Hammer, torniamo con il secondo caso di Detective Conan della saga principale, diciamo così, sia saga principale che in questo caso sia collegato ai miei dubbi, comunque Actors Bloggers Locked Room, che tratta, in realtà è abbastanza divertente, non come il terzo, ma è divertente, diciamo così, e abbiamo con noi Fra e Deb, ciao. 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 Sì, ecco. Chipo, poi è per due persone, ma vanno tutti i Detective Boys, va a casa, va tutti quanti. Beh, da due persone, stanno tipo in cinque… Esatto, che poi Aí si incazza perché dice, no, professore, no… poi solo Ghenta mangia per due questa cosa non l'ho capita perché Ai non fa mangiare a casa però Ghenta lo fa mangiare quanto vuole Ai è diventata tipo la mamma è tipo la nipote che ti prende cura non lo puoi mangiare perché poi c'è la glicemia alta comunque mi fa ridere questa cosa qui di Ai che fa l'infermerina anche se mi dispiace per il personaggio perché ha perso qualunque tipo di di valenza ambigua lo diremo dopo va bene arriva e vanno in questo posto per mangiare Ghenta che si abbuffa come un maiale chiaramente e qui vediamo subito lei che si nasconde questa blogger che si nasconde ma non dite che sono qua ma devi fare un servizio fotografico cioè subito la stronza tu lo vedi che è la stronza che è subito davanti a tutti ah tu pensi di vincere il mio blog sarà il migliore ti dovrei tagliare i capelli tutta questa storia qua vabbè ovviamente capiamo subito che chi morirà è il caso qua dico molto brevemente non è che sia bruttissimo intendiamoci c'è un tipico caso della a camera chiusa cioè qualcuno entra in una stanza uccide se ne va però rimette la chiave vicino alla vittima in modo che sia impossibile essenzialmente è una variazione del filo da pesca peccato che e qua c'è la grave colpa del caso secondo me che è noioso perché ci fanno vedere subito lo strumento con cui questo delitto sarà commesso cioè l'aeroplanino drone che si sporca guarda un po' questo è un errore gravissimo si sporca di crema perché è entrato in contatto con Ghenta non è che l'ha pulito no cioè se tu sei l'assassino e devi usare uno strumento per un omicidio ma lo lavi per le impronte bene lo controlli e cioè no quindi c'è la c'è la crema sopra e quindi sarà la prova definitiva questa vabbè lei è molto sbadata poi si crea questo alibi che mi ha fatto morire da ridere non so se può funzionare però perché chiama la tipa che è la segretaria della della morta e dice ci incontriamo qui ok sì e quindi sta tipa va nella stanza della dell'assassina questa le fa un video col cellulare attaccato può essere anche carina come cosa e poi usa quell'immagine per farsi aprire da quell'altra c'era anche un altro modo cioè l'assassina poteva dire alla vittima mi voglio arrendere che mi apri che parliamo il problema poi è che si fa sgamare subito il segreto sempre sti segreti io non capisco come sia possibile che uno sappia che tu hai investito della gente così vabbè il segreto il movente può ancora funzionare che poi non era vero perché quel riferimento della morta non era è il classico movente con il malinteso esatto per la lacrimina capito è che ha sbagliato ad ammazzarla e quindi si pente di averlo fatto io questo qua lo paragonerei a quando alla fine degli episodi di Don Matteo c'è lui che fa pentire il villain di turno raccontando di la bibbia ti dico solo che è cringe ecco è lo stesso livello per me l'ultima cosa poi faccio andare a voi che non mi è piaciuta il tucco del cappello poteva essere simpatico perché la tipa fa cadere il cappello si vede proprio palesemente qua è fondamentale quando entrano nella stanza della vittima le fa cadere il cappello per raccogliere il drone aeroplanino ok ma distruggelo in pezzi scusami lo fai a pezzi e butti le parti in tutto l'albergo invece se lo tiene intero ma proprio furbissima scaltrissima ma sì poi mi sono stupito che in questo albergo non ci siano delle telecamere incredibile ma che cazzo di albergo è questo vabbè nelle stanze è giusto fuori dico nei corridoi nei corridoi ma comunque la maggior parte delle cose forse solo per il telefono attaccato là magari ma no perché se tu avessi inquadrato con la telecamera lei che va a bussare alla porta della vittima l'avessi chiuso vabbè andate voi anche sì però vabbè secondo me questo caso già lo dico qui inizia proprio a calare la noia io non sono un amante dei casi alla Colombo perché o lo fai bene che proprio deve essere intrigante interessante magari l'assassino che lo sai ma lo sai tipo a metà film o a metà episodio oppure escono cose così dove l'assassino è stupido per i motivi che hai detto tu ma anche per altri mille motivi cioè veramente il fatto che chiami è troppo sospetta fin da subito il fatto che chiami la sostituta del manager che la chiami così e poi no niente così non servi più già è sospetto di ciò il fatto che si lasci sfuggire il fatto che eh no ma tanto io oggi non avevo le riprese e poi scusa se c'è un caso interviene la polizia la prima cosa che controllano è tu che ci facevi qua cioè nel senso ci sono un sacco di stupidaggini qui e lì che veramente era tipo Conan aspetta un attimo scusa anche agli altri cioè se qua fossimo nella realtà la polizia questa già l'avrebbe arrestata subito chiudendo il caso per sbrigarsi perché già il momento c'erano le motivazioni c'era tutto sostanzialmente e quando le è caduto il cappello in quel momento è proprio la noia mortale perché ho detto vabbè ok ho capito era entrato quello bla 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 infatti veramente poi ci provano con il fatto della reazione a un pochettino a depistarti a dirti ma non è che magari con quello poi però vedi il coso del selfie lì e capisci subito questa qua però cioè è proprio banale quello è il problema secondo me non è brutto nel senso non è scritto malissimo ma è banale lei è stupida appena vediamo l'altra subito vabbè questa crepa il fatto dei selfie ok va bene è stupido come caso ma molto cioè queste l'uniche cose che posso perché veramente ho poco da dire stavolta il fatto dell'aeroplanino come hai detto tu il fatto della panna è proprio inconcepibile poi un'altra cosa ma questa è solo una piccolezza per carità il fatto che ci fanno nell'albergo scusa ma se ci sono le riprese nel senso penso che bastava dire ci sono le riprese no no è che non devono sapere scusa ma non sanno quando iniziano le riprese che lì trapela tutto c'è un mondo dove trapela tutto boh secondo me molto stupido come caso il cellulare per quanto sia bellina l'idea perché mi è piaciuta io voglio lo scotch che ha usato la signora per tenere il cellulare perché lo scotch che di solito prendiamo noi almeno io oppure Deb crolla tutto anche se è un pezzo di cassa quindi il cellulare ci vuole quello lì da beh ma io io non so che telefono abbia o che scotch no ma neanche Aska guarda che il tele il cellulare solo la batteria del telefono pesa un botto io non lo so se questa c'è il telefono ultra sottile ultra cioè leggero però so semplicemente che in camera mia quando facevo le vecchie live avevo le luci attaccate sopra il letto con lo scotch e le luci le lucine quelle piccoline di Natale cadevano perché erano anche se c'è erano molto più leggere del telefono ma cadevano perché dopo un po' lo scotch si rovinava o comunque il peso la faceva cadere io non lo so questa che tipo di che poi se vi ricordate la scena c'è proprio un pezzettino di scotch in alto che tiene tutta la busta con sto telefono dentro cioè io boh veramente ma lasciando che io penso che se c'è un ammiratore o gliela lascia andare sotto la porta o la mette cioè non penso gliela vado ad attaccare là perché se apre la porta guarda caso sopra lo spioncino guarda no la vede la busta cioè se apre la porta come la vede la busta cioè proprio mi è piaciuta l'idea di fare una roba simile con il cellulare di mostrare lo spioncino veramente bellina come idea sai cosa fra sai che cosa poteva fare se sarebbe stato realistico cioè tu hai due cellulari uno molto leggero che poi butti via con cui fai il video e lo attacchi con la colla proprio direttamente la colla vinilica sì cioè aveva più senso aveva più senso molto più senso a parte questo niente secondo me è solo un caso noioso è canon perché in realtà qui scopriamo chi è il terzo sospettato che è Ghenta sostanzialmente e sì è Ghenta e secondo me è lui secondo me è lui basta ma io lo dico che Ghenta è super sospetto si è rimpicciolito solo per io lo dico infatti mangia come un adulto non quanto un bambino capito abbiamo capito basta possiamo finire qua Conan va quello che voglio dire su questo caso è che secondo me non è tanto brutto l'inizio quando noi vediamo le due sappiamo già che una è quella finta buona e l'altra è quella finta cattiva c'è il dialogo c'è la cosa che dice Aie le donne sono più misteriose di ciò che pensi nella loro profondità cioè sostanzialmente voleva dire che l'apparezzo inganna e va bene o che ci sta sappiamo già chi muore sappiamo chi è l'assassina la cosa peggiore di questi casi qua è che l'idea ci sta ma il problema è anticipare delle piccole cose che guarda Conan tipo l'aeroplanino tipo che lei si accascia e prende qualcosa la panna le cose iniziali proprio che ti fanno già capire come ha fatto il bello di questi casi è proprio sapere chi è stato sapere ovviamente chi è morto sapere quasi tutto tranne proprio la modalità mentre in questo caso viene proprio a mancare perché tu lo capisci fin da subito che c'entra il filo c'entra l'aeroplanino perché c'è la panna ed è un finto caso diciamo con la stanza chiusa secondo me c'è una serie bellissima che io adoro che non so se Asuka conosce che si chiama The Sinner e ogni stagione in pratica fa proprio questa cosa qua nel senso tu al primo episodio i primi cinque minuti dell'episodio vedi il morto vedi l'assassino l'unica cosa è capire perché l'ha fatto e come l'ha fatto ed è bellissimo perché là non ti anticipa nulla non ti spoilerà nulla invece qua praticamente il caso si poteva chiudere nei primi cinque e dieci minuti Conan ha voluto aspettare di capire come poi vabbè l'ha scoperto tramite un bellissimo dialogo di Aido che parla di come utilizzare il cuoci riso per fare perché non serve solo per fare il riso serve anche per fare le torte grazie a lui per questa cosa non sapevo apprezzo sempre e poi la cosa della foto che una era una blogger che fotografava pure se stessa e quindi utilizzava il bastone cioè io poi quella stanza non so come l'hanno vista il bastone nessuno se ne è accorto di quel bastone ma come anche lo scotch stesso io ho pensato quando tipo devo togliere un pezzettino di scotch rimane non solo la mia impronta sullo scotch ma pure fuori dallo scotch se lo prendi con i guanti di lattice si resta praticamente attaccato allo scotch quindi non so come questo abbia fatto ad attaccare quello scotch in modo così perfetto che mantenesse il telefono che pesa un sacco la polizia non si è accorto che poi mi sono reso conto che la panna stava sul bastone non tanto sull'aeroplanino ma la polizia non si è accorta di queste cose cioè Conan fa ma lì in alto c'è un pezzo di adesso non mi ricordo che cosa e loro che c'è che fanno boh non lo so ma perché c'è pure la polizia in questo caso ah vero dice Megure che fa le battute dice e Conan che porta sfiga però anche gli altri eh sì perché ci sta quella che non abbiamo menzionato che è la poverella che si si trova in mezzo che diciamo fa la manager in questo caso alle due che dice tipo ma sempre quando sto io capita e poi ma quanto mi fa ridere quella scena vabbè comunque a parte questo il momento è orribile nel senso allora lei praticamente aveva detto la rivale quella che è morta di avere di sapere il segreto dell'altra ora questo segreto diciamo che gliel'ha comunicato tramite un codice sui manga diciamo uno ha capito una roba uno ha capito l'altra praticamente l'ha uccisa perché lei pensava che sapesse dell'incidente dove aveva investito con l'auto uno aveva insabbiato tutto e quindi praticamente si è tirata la zappa sui piedi da sola perché adesso non solo va in carcere per aver ammazzato una ma va in carcere pure per aver nascosto l'incidente con l'auto dove ha ammazzato pure un'altra persona grandissima il vero segreto era che era sull'età era che aveva non la la rivale la minacciava perché sapeva la sua vera età e quindi scandalo sapere l'età di una donna no vabbè è qualcosa di cui qualcuno ci resta secco quindi mi fa molto molto ridere perché ormai mi sto abituando a sti moventi di Conan veramente stupidi ma proprio dinamiche stupidi io non so che messaggio vogliono mandare che tipo le incomprensioni possono portare alla morte possono non lo so però sono contenta che almeno dopo questa incomprensione anche se c'è scappato il morto sia venuta fuori la vera natura di stati pacquà dallo sguardo dallo sguardo cattivo che sembra tutta carina tranquilla e fragolosa e poi in realtà fa lo sguardo tipo da Conan quando pensa che ci sono i Men in Black tipo cosa vabbè è questo sì è vero ormai ci sono abituato anzi quando vediamo un movente che ha un senso è incredibile fiesta no sappiamo lo champagne perché è un po' strano sì sì infatti per quello apprezzo il caso il caso di prima almeno lì aveva più senso aggiungo una cosa che non mi è piaciuta l'animazione qui è un po' mediocrina cioè si sono impegnati davvero poco è molto dozzinale questo non non aiuta di sicuro comunque faccio dire qualcosa a voi se vi va su il colpo di scena perché il nostro Kuroda che era prefettore la capo della prefettura dall'altra parte come abbiamo detto nel caso precedente qua scalza Matsumoto che è lo storico capo che abbiamo anche nei film in diversi film a me dispiace perché Matsumoto era un buon personaggio è stato mandato via e arriva Kuroda che fa la voce grossa e fissa Conan in maniera un po' bizzarra un po' ostinata vuoi dire qualcosa ma semplicemente mi è piaciuto come l'hanno costruito nel senso vabbè odio il fatto che tutto l'episodio a di Canon solo il fatto che Conan racconta a Yi eh guarda siamo andati là abbiamo fatto abbiamo mangiato abbiamo fatto la vacanza le statue però c'era anche room però comunque è stata una bella vacanza tutto sommato vabbè e poi tu ti guardi tutto l'episodio il caso il momento fa schifo arrivi sul finale ci stanno i titoli di coda e lì praticamente è la resa canon dei due episodi interi però mi è piaciuto l'incontro comunque tra Megure Takagi e e soprattutto questo Kuroda che cerca di di tenere d'occhio Conan cioè comunque rispetto a quello di cui parlavamo prima è vero che non rileva non rivela l'identità di Conan qualora dovesse essere in Mellin Black che se no già andavano da Yi già succedeva il bordello però comunque fa le sue velate minacce tipo eh io ragazzino so chi sei so che sei tu la mente geniale dietro Goro dietro tutti quanti fossi in Conan io effettivamente un po' di sospetto lo butterei su di lui perché tavolo oddio qualcuno sa chi sono veramente adesso mi caco invece no lui no non se ne importa va bene Conan tu sei troppo potente questa cosa secondo me è una grandissima caduta perché allora io sono convinto che non sia Kuroda però Kuroda è comunque qualcuno che sa e quindi qualcosa di mezzo c'è sicuramente è un comportamento così boh cioè è vero che andavano a casa dietro soprattutto ora che l'ha effettivamente se non sbaglio vista se non sbaglio alla fine sì 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 ma anche se non fosse uno dei men in black io fossi in Conan direi questo qua mi può rovinare la carriera mi può rovinare la vita mi può far sgamare non lo è non lo è ma è comunque rischioso cioè è comunque rischioso quindi e niente invece Conan boh tranquillo tanto tanto Run non lo capirà mai quindi se non lo capisce Run siamo a posto infatti prima avevo scritto una roba non volevo dirla però a sto punto A.I. dice le donne sono un segreto un mistero e poi c'è Run secondo me l'obiettivo l'obiettivo è lo possono sapere tutti perfino i men in black possono anche rischiare la vita ma l'importante è che il segreto dell'amore sia segreto ricordiamoci che Run e Conan hanno fatto dei bagni insieme io appunto è per quello che non può uscire fuori la cosa non perché non perché rischia la vita rischiano la vita tipo tutti quanti no perché se no non possono fare più i bagni insieme no 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 ma la galera direttamente Gorofuma addirittura ha fatto il bagno con mia figlia da bambina ma sei un porco esattamente va bene andiamo al voto allora voto 4 più tendente al 4 perché abbiamo detto non ha senso questa assassina ha l'intelligenza di una penna però scarica non funziona è tutto banalissimo si capisce tutto io sapevo che sarebbe stato coinvolto l'aeroplanino quello che è stato raccolto col cappello e che lei era l'assassina quella era la vittima sapevo tutto due palle così essenzialmente quindi 4 più questi sono due casi dove praticamente si prende in giro da solo Detective Conan proprio la serie e allora tutto sommato mi ha fatto ridere quindi almeno questo un pregio ce l'ha ci sono delle cose che non funzionano il movente fa schifo di canon c'è poco anche lo stesso incontro con Meguro e Takagi potevano fare qualche gag potevano inventarsela meglio non lo so quindi do un 5 ma giusto perché non voglio andare troppo sotto perché comunque tipo la scena dove Conan fa ah 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 sì 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 non alla tipa e poi fa la faccia seria tipo io sospetto di te fa ah ah sì sì che bello eh sono un bambino e poi solo quella verità verità un punto in più quindi non do di meno di 5 io non voglio regalare nemmeno un quarto di voto cioè proprio 4 perché non ci sono proprio non hanno fatto niente questi episodi si sono messi là ok facciamo una roba alla Colombo e alla fine ci mettiamo quello come unica cosa ma per il resto 4 perché verrà non hanno fatto nulla perfetto ottimi voti ottimi voti andiamo al terzo caso il più divertente sicuramente a dopo ciao ragazzi ciao ciao ciao